Ci sono conduttrici che non apprezzano particolarmente di andare in onda se in studio non sono presenti veri e propri fasci di luce che, puntati sui loro volti senza pietà, sono capaci di piallare in men che non si dica rughe e imperfezioni della pelle. E tra le altre c'è anche Barbara D'Urso. Che qualche ora fa è stata ospite della celebre trasmissione 6WAAD. Su Radio DJ. Anche, per parlare del tema, prima di iniziare, Barbara D'Urso ha voluto toccare il delicato argomento. Sottolineando che senza le fidate luci di Cologno sarebbe apparsa, un cesso. Tuttavia. Nonostante fosse consapevole che non le avrebbe avute a disposizione. Ha accettato di buon grado l'invito dello speaker. Sono così. Qui non ci sono le mie luci. Comunque come vedete sono qui. Ti ho chiesto delle luci? No. Quindi non me ne frega niente. Ha sottolineato Barbarella. Indossando i suoi immancabili occhiali da lettura. Nel corso dell'intervista. Tra le altre cose. La conduttrice ha anche avuto occasione di fare un po' di sana autoironia leggendo alcune delle rime che certi rapper le hanno dedicato nel corso degli anni. A volte si è trattato di frasi innocenti. Altre volte invece sono state irripetibili. Ma la presentatrice non ha fatto un plissé e ha accettato di buon grado di leggerle tutte quante. Fra i commenti all'intervista. Tra l'altro. È spuntato anche Giacomo Urtis. L'ex GFino ha tenuto a sottolineare come anche lui stesso avesse dedicato delle. Barre. Alla presentatrice nel pezzo gossip. In ogni caso. Quello del noto chirurgo plastico è stato solo uno fra le decine di commenti molto critici dedicati a car. Sono infatti stati in tanti gli ascoltatori di radio DJ ad essersi lamentati della presenza della conduttrice in studio. Oddio pure su DJ sbarca il trash. Che peccato. Ha commentato Betty. A cui ha fatto eco sono trattino basso cenna trattino basso zeta i che ha scritto. Ma che c'entra Barbara. Molti altri sono stati ancora più duri. Sottolineando di essere rimasti delusi da UAD e di aver persino dovuto cambiare canale per il fastidio.